L'epistemologia L'epistemologia realizza la verità assoluta. Dobbiamo iniziare dal primo principio della dinamica, dell'azione e della reazione. Esistono da interagire, da dare a loro più di 1 e meno di 1. L'interagione è meno di 1. In effetti, dicendo sì al non o dicendo no al sì, il risultato è sempre negativo. La verità assoluta è quella che ricorda di un paio di valori opposti come che il suo numero numero zero. Questa è la foto del nostro mondo binario che è basata su ogni possibile contraddizione come nei contatti fisici come in quello del spirito e del morale. La verità assoluta è che la prima azione rappresentata dall'interazione tra l'azione e l'azione dell'azione è la devoluzione dell'esistenza. la prima azione che il real ritorno al tempo tra l'antimatter il magnetismo e generalmente ogni negatività. stiamo percebendo che stiamo percebendo quello che è uguale ma contrario a questa verità evidente ci siamo confusi da l'observazione di quello che è uguale ma contrario la forma di rendere noi confusi l'azione in l'azione tra gli antagonisti la materia il movimento elettrico e generalmente ogni positività. La l'azione di esistere in potere e di essere in reale è l'integra sistema integrale tra l'esistente e l'azione non in azione abbiamo tutte le possibilità dell'esistenza diventate in strade verticali di ordini come tutte le possibili dvd dei film di tutte le possibili di umani e animali La nostra vita è come un virus che ha la capacità di trasformare le ordini in modo che la esistenza del string assume le forme usate dal software dell'esistenza 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 quindi la stringa di 1 0 1 0 avvances verso l'esistenza e assume la forma della nostra reale nella stessa modo in cui l'esistenza è trasformata diventa un film in cui sono rappresentati 1 la massa 2 il tempo 3 l'esistenza 4 l'esistenza 5 l'esistenza termica l'esistenza l'esistenza del mole 7 l'esistenza dell'esistenza l'esistenza 4 7 le l'esistenza 7 l'esistenza di l'esistenza 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 decimo sono realmente esistono in questo 10 ciclo perché questo ciclo rappresenta l'azione ciclica del nostro virus Un virus è un ciclo di invasione. Trogg è il software e il nostro 1 è il ciclo 10. Trogg, questo numero 10, come l'abitore assoluto di tutto, è derivato dall'universo infinito che affirma la sua percezione unitaria, trogg il ratio 9 per 1 che è interno al 10. La divisione dell'absoluto 10 nella forma unitaria del ratio 9 per 1 ottiene questo risultato importante. 1.1111, la presenza decimale, infinito 1, sempre il 10 di tutti i 10 di prima. 3.1212, la presenza del 4. While this is happening in the depth of the time, we have in front the shape of a plane in which happens the becoming. 3 x 3 becomes 63 x 63. And afterward, 353 x 353 in the 3rd time of the division of 10 divided 9. The becoming is the result that is appearing in the movies. It is only the effect of an apparent cinematic. By the eternal introduction of 1 10, we have the free acceleration of all the free masses, but also that vision who is named fractal. Our world, which seems in its real becoming, is only the fractal movie that our spirit generates for having a reason of his cycle and of the string of binary orders that he has received by the destiny. In fact, our spirit is not the first one in existence. Before of his vision and interpretation, there is the string of the DVD of his life and there is the 10th cycle that is his virus. But, where 1 and 0 are the numbers of his DVD, the 10th is the link between 1 and 0 and he is the soul of everything. 10 is the soul of everything as one only God. 1 and 0 is the division that, mixed in every possible way in the infinite system of all the possibilities, makes infinite and absolute is the same 10th cycle. In fact, our world is made by Guanta, as Mark Planck explained. The 10th cycle is such as the God of justice. He is 3, as the 3 components, x, y, z, equal and distinct of the volume. And it is 1, as the 1 volume that is made by the interaction among the 3 components. 3, everyone is the unity and the trinity of our volume. That is like to the God unity and the trinity affirmed by Jesus Christ as the fundamental truth that we can call God. Well, the trinity making true interaction, everything, its full volume is 10, exactly as a God of justice. For this reason, we have that 3 divided by 3 plus its inversion made by 3 multiplied by 3 is 10. When the trinity divides in 3 and afterward multiplied by 3, its one-third and its triplication are only two opposite shapes of the same trinity, as in our geometry, as in our geometry is the line and the surface, the section of the volume. By putting together 3 divided by 3, that is 1, and 3 multiplied by 3, that is 9, the result of the addition 1 plus 9 equals 10 is, in this way, 10 as the God of the sum of justice, between his one-third and his one-third and his triplication. This sum of justice is absolute one. He has the power to act through the powers of the base 10. 10 rise to n equal infinite, he is the infinite universe. But this divine action becomes so divine and transcendent by allowing the rebellion of the devil and by the introduction of the perception equal but contrary one. In this way, the 10 rise to n, that is the infinite n in power, is put in action through the decimal logarithm of 10 rise to n, whose result is n, is the infinite real universe in all the number n. of its units. The action of God to realize this infinite, is exactly that of the logarithm of 10 rise to 10, and this power is rise to 1 divided by 9. 1.1.1.1.1.1.1 in the depth of the time, with the fractal inflection in the transversal plane of our real vision. Deal with a perfect includes youtube channel and savings Thomas Sea Etreme